Ciao, benvenuti a un altro episodio di Climate Change Wars, ossia guerre del cambiamento climatico In questo podcast discuterò rapidamente di pianificazione strategica per permettere a tutti di farsi un'idea approssimativa del peso specifico del contenuto del podcast Le guerre del cambiamento climatico, Climate Change Wars La pianificazione strategica è una disciplina dell'economia aziendale è composta dallo scenario planning e dall'Oda Loop Lo scenario planning serve per pianificare in modo strategico il futuro a lontano L'Oda Loop è invece lo strumento per monitorizzare la storia misurando continuamente le variabili chiavi in modo continuo e persistente per sapere quale sia la direzione strategica imboccata e quale scenario emergente sta affiorando dalla realtà Scenario planning ecno ha un militare in Rainbow Plan che potete trovare linkato in descrizione per avere un'idea di cosa fu uno dei primi casi dell'applicazione dello scenario planning Dopo la seconda guerra mondiale ebbe ad essere introdotto lo scenario planning anche nel business aziendale Esponente più importante di tale disciplina sicuramente Pierre Wach e la compagnia petrolifera Shell È predicibile il futuro? Ecco, se volete conoscere il futuro in modo esatto allora, ecco, dovete andare da un mago o da una a una chiromante loro vi diranno esattamente quello che vorrete sentire I politici sono ladri e stupidi non vedono oltre la prima elezione utile e raccontano balle quindi non sanno niente del futuro I giornalisti vivono immersi nei fatti ma li travisano, li occultano e costruiscono fatti inesistenti per sostenere la propria propaganda politica Gli autori di fantascienza scrivono storie per avere il denaro dai lettori Ci sono anche gli economisti che si occupano di futuro Tutti gli economisti sanno che il futuro non è noto e non è scritto Inoltre l'economia è una scienza sociale Le immutabili sono predominanti sulle variabili L'economia non può essere prevista oltre 365 giorni A riprova di tutto questo gli aziendalisti fanno budget frazionati in trimestri che adattano continuamente per raggiungere i propri obiettivi annuali I DPF generati dai governi che si succedono ecco, i DPF valgono come la carta igienica per pulirsi il culo perché i DPF cambiano ogni anno e raccontano sempre oltre il primo anno delle storie future sempre diverse che però non si realizzano mai Anche uno scemo capirebbe che l'econometria non permette di prevedere niente oltre 365 giorni al massimo fornisce qualche indizio sul futuro oltre 365 giorni Infatti nella realtà aziendale tutte le aziende non pianificano oltre un anno nel loro business Poche fanno pianificazioni strategiche tra i 3 e i 5 anni quasi nessuno redige scenari predittivi oltre i 30 anni Le previsioni a 100 anni sono speculazioni selvagge che stanno nella dimensione della letteratura di fantascienza Ecco, se volete approcciarvi al problema del futuro lontano in modo razionale e scientifico Ecco Un fisico farà a pezzi tutta la vostra speranza futura e la vostra fede scientifica deterministica perché un fisico vi dirà che tutto dipende dal vostro oggetto di studio In talunni oggetto di studi il futuro è esattamente predecibile in altri oggetti di studio si può predire poco o niente Il futuro è incalcolabile ed impredicibile se il fenomeno che state studiando con il metodo dell'analogo ha un tempo di ricorrenza di Poincaré lunghissimo ossia in altri termini se il fenomeno che state studiando ha un tempo caratteristico ossia un tempo di Lyapunov troppo piccolo Poi senza stare a disquisire e scomodare quindi disquisire troppo sulla lana caprina dal primo teorema di Godel c'è pure il problema che un sistema anche se è centrato con variabili chiave corrette esisteranno sempre delle proposizioni indedicibili che non potranno essere dimostrate o confutate a priori Il secondo teorema di Godel sempre per non disquisire troppo di lana caprina dice grossomodo che per quanto un sistema sia centrato sulle variabili chiave corrette utilizzando i mezzi interni del sistema logico non si potrà dimostrare la consistenza del sistema stesso C'è poi il problema pratico della scelta delle variabili o mutabili chiave che spesso dominano il problema Comunque a serie GRI per farla corte e breve il futuro non è nota e non è scritto per quanto con numerosi progressi della scienza ecco si possa dire che il futuro è composto da 1. Alcune cose che già sappiamo 2. Da cose che al momento non sappiamo ma che gradualmente conosceremo in itinere andando a stimarle con la stima a forcella che sarà ragionevolmente corretta 3. Nel futuro poi ci sono cose che già adesso sappiamo che non potremo saperne nulla a priori ma di queste cose le potremo conoscere tutto solo però a posteriore 4. Infine nel futuro c'è poi tutto quello che non sappiamo ecco detta così sembrerebbe che occuparsi del futuro è cosa inutile darsi all'ippica forse sarebbe più saggio beh insomma la storia ha dimostrato il contrario pur con tutti i limiti del caso sono innumerevoli le teorie ed ipotesi che si sono dimostrate vere anche nel lungo e lunghissimo periodo a prescindere dal proprio oggetto di studio ad esempio la teoria della gravitazione universale di newton con la quale osservando le anomalie di misurazione dei pianeti visibili si sono inferiti l'esistenza di altri pianeti che sono stati solo successivamente osservati con i telescopi la teoria della relatività ristretta di Einstein ha spiegato l'energia come materia per la velocità al quadrato la velocità della luce al quadrato spiegando appunto la fissione e la fusione nucleare liberata ad esempio in bombe atomiche oppure in reattori nucleari civili la teoria della relatività di Einstein ha predetto la curvatura della luce nel passaggio vicino a grandi masse che si è potuta osservare e misurare ecco ma non sono solo le teorie centrate sullo potente strumento matematico e con un oggetto di studio che è un tempo di Al-Yapunov favorevole ecco non sono solamente queste le teorie che si sono verificate ci sono anche teorie e dottrine che sono state verificate e su cui però la fisica non avrebbe scommesso un penne la dottrina Morro perseguita dagli USA li rende predecibili nel loro comportamento geopolitico a livello planetario la teoria la teoria la teoria del contenimento di Kennan pur non contenendo nemmeno un'equazione di primo grado al suo interno ecco la teoria del contenimento di Kennan ha saputo predire la vincita della Nato sul patto di Versailles durante la guerra a fretta la teoria del potere aereo di Due e di Mitchell che ebbe a predire tutto il potere aereo della seconda guerra mondiale e di parte della guerra fretta ecco la teoria di Due e di Mitchell sul potere aereo non ebbe a tenere in dovuto conto lo sviluppo della missilistica con missili intercontinentali missili lanciati da sottomarini missili anti diciamo anti samma quindi lanciati terraria contro i contro le aeree oppure i Manpat ma ecco ma indubbiamente la teoria del potere aereo di Due e di Mitchell spoggia alla base sul concetto di potere aereo moderno lo studio dei limiti dello sviluppo che previde un collasso tra il 1970 e il 2070 ecco ad oggi nel ventunesimo secolo i segnali di early warning di un imminente collasso sono praticamente ubiqui cioè ovunque intorno a noi sono numerosi e crescono in numero ed in intensità e che validano quindi lo studio del club di Roma il paradosso di Jevons un fenomeno economico e sociale che si ritrova diffuso come il prezzemolo in tantissimi comportamenti umani in parte è spiegabile con diversi gradi di elasticità nelle curve di mercato in parte con la imbecilità del genere umano in parte si sono verificate le previsioni dell'uomo sulla luna di Jules Verne e di H.G. Wells ecco la conquista della luna è però accaduta con un razzo e non con una cannonata spedita dalla terra e senza polvere antigravitazionale e così ci sono molte altre previsioni cui al momento ecco non mi va di discutere per non rendere il podcast troppo lungo e noioso un discorso della misurabilità specie se si guarda alle previsioni speculate dalla fantascienza ci porta alla logica Fazzi a cui si attribuisce ad una mutabile o ad un'asserzione un diverso grado di verità compreso tra tutti i numeri tra 0 e 1 estremi 0 e 1 compresi la logica Fazzi è uno strumento indispensabile per verificare la misurabilità e verificabilità di mutabili la logica Fazzi facciamo un esempio chiarissimo e rapido per intendersi a un volo immaginiamo che uno dica nel futuro tutte le macchine saranno nere ecco quello che vedete a video è un esempio di auto nera auto nera l'affermazione è vera diciamo vera al 90% non è vera al 100% perché l'auto ha i fanali posteriore rossi la luce bianca e i cerchioni bianchi ma noi diremmo che quella che vedete a video è sicuramente un'auto nera ecco secondo caso questa è un'auto nera? beh insomma è prevalentemente nera perché ha i cerchioni bianchi le luci diciamo un osservatore non le considera insieme ai cerchioni però c'è uno sportello che è bianco però il resto della carrozzeria tetto e anche l'altra parte se fosse identica a questa con il tetto nero sarebbe una macchina prevalentemente nera con uno sportello bianco quindi un osservatore direbbe se l'osservasse l'auto dall'altra parte con la fiancata prevalentemente nera direbbe che la macchina è nera osservando da quest'altra fiancata direbbe che la macchina è diciamo una macchina appunto prevalentemente nera con lo sportello bianco quindi diremmo che questa è una macchina nera all'80% grosso modo perché diciamo in sostanza è una macchina tutta nera tranne uno sportello bianco ecco questa macchina qui questa è una macchina che è mezza nera e mezza bianca se anche dall'altra parte della fiancata immaginiamo che sia così questa avremo praticamente che la macchina sarebbe mezza bianca e mezza nera ecco l'affermazione ma che nel futuro saranno tutte interamente nere sarebbe praticamente vera al 50% perché qui ci sono macchine che praticamente alcune diciamo il frontale anteriore e la parte posteriore sono bianche però il nucleo centrale è nero quindi due sportelle il tetto e i vetri diciamo l'azzurri sono di colori scuri quindi sarebbe prevalentemente diciamo ancora diciamo al 50% diciamo sarebbe quasi un 51 52% nera per quanto diciamo la presenza di bianco sarebbe elevata ecco macchina bianca questa è sicuramente una macchina bianca il fatto che ci siano i cerchioni neri e le luci rosse le luci praticamente bianche non sarebbe una cosa che verrebbe sostanzialmente a intoccare un osservatore per cui la frase tutte le macchine nel futuro sono nere sarebbe falsa quindi avrebbe un valore pari a 0 o perlomeno diciamo ecco pari a 0,10 se si dovesse conteggiare anche il colore dei cerchioni quindi una frase prevalentemente falsa questo è il criterio grossomodo della logica Fazzi che è importantissima nella fase delle misurazioni delle mutabili ecco adesso diciamo addentriamoci rapidamente nello scenario planning ci sono praticamente ci si occupa nel futuro lontano di problemi che sono praticamente possono essere predecibili possono essere a bassa predecibilità o ad alta predecibilità e l'impatto può essere a basso impatto o alto impatto allora i problemi che sono di bassa predecibilità e sono ad impatto basso sono falsi problemi inutile stare a confondersi con falsi problemi per lo più che la politica utilizza come notizie schermo o falsi problemi schermo per andare a celare altri veri problemi su cui non vuol mettere mano ecco i falsi problemi non fanno parte del problema della diciamo della pianificazione strategica perché sono problematiche che ha bassa predecibilità e impatto molto basso per cui praticamente si possono ignorare poi abbiamo problemi con impatto basso ma predecibilità alta ecco questi possono essere degli imprevisti ordinari ecco gli imprevisti ordinari questi possono essere contemplati o meno nel modello della sintetizzazione della realtà se si contemplano si ha un modello che diciamo in un qualche modo previsti ordinari che possono essere diciamo predetti in modo diciamo abbastanza agevole però diciamo il loro impatto è piccolo di conseguenza diciamo se sono previsti abbiamo un modello che praticamente è completo se invece non sono previsti il modello diciamo ha effetto un errore nella sintesi della realtà ma poiché questi diciamo problemi hanno un basso impatto non è essenzialmente per quanto siano facilmente predicibili diciamo si possono anche non dico ignorare ma perlomeno dato che hanno un basso impatto quelli con impatto crescente diciamo vanno contemplati quelli con basso impatto si possono ignorare al pari praticamente dei falsi problemi ossia di predicibilità con problemi con bassa predicibilità quindi difficili da predire ma che hanno un impatto basso quindi sia questi che quanto gli altri in parte si possono ignorare perché se il loro impatto è basso poi abbiamo problemi della predicibilità alta e con impatto alto ecco questi sono spazio delle previsioni di breve periodo perché questo indubbiamente è uno spazio nelle previsioni di breve periodo che vanno sostanzialmente fatte bene per avere una visione di breve periodo che sia chiara e nitida i problemi sorgono praticamente per problemi di predicibilità di eventi a basso impatto ma che però diciamo a bassa predicibilità ma che hanno un altissimo impatto questo è lo spazio un problema tipico lo spazio delle previsioni di lungo periodo e quindi di conseguenza come si affronta questo spazio delle previsioni di lungo periodo di cui il futuro non è noto e non è scritto e non si sa praticamente niente si utilizza appunto lo scenario planning scenario pessimista scenario libido scenario ottimista andando ad analizzare e modellizzando appunto una serie di scenari con diciamo le angoli più impattanti dei relativi problemi attenzione 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 breve periodo nel breve periodo c'è quindi lo spazio delle previsioni di breve periodo è composto diciamo dall'oggi al breve periodo e ci si cura nello spazio delle previsioni di breve periodo di tutti i problemi che hanno una prediscibilità alta e che hanno un alto impatto quindi spazio delle previsioni di breve periodo spazio delle previsioni di breve periodo queste rientrano nella diciamo spetto temporale del breve periodo nel medio periodo ecco ci si perde praticamente per strada ci si perde per strada perché diciamo un fisico direbbe che praticamente a causa del vostro oggetto di studio l'oggetto di studio è complesso è caotico magari avete anche il tempo di Iatopo a sfavore il tempo di ricorrenza di Poincaré magari lunghissimo non potete adoperarvi con il criterio dell'analogo e quindi vi perdete per strada come è possibile diciamo costruire mappe logiche di lungo periodo scenari di lungo periodo per avere sotto mano i rischi più importanti quindi i rischi che sono quelli di bassa predecibilità ma con alto impatto e qui lo facciamo proprio con lo scenario planning che è quello che vi ho detto con l'analisi lungo periodo con una serie di scenari come si fa come si fa ecco è relativamente semplice insomma il processo è semplice nel senso che consiste nell'identificare variabili chiave identificare diciamo i fattori critici di incertezza sviluppare scenari e poi mettersi a discutere le implicazioni degli scenari e i vari sentieri che possono diciamo essere percorsi per raggiungere i vari scenari ora gli scenari che si vanno a costruire come vi ho detto sono quelli più impattanti per diciamo l'utilità o meno di andare a costruire un numero crescente di scenari vi rinvio al podcast praticamente guerra del cambiamento climatico e scenari agli intestizi irrazionali come si costruisce uno scenario non è difficile da costruire uno scenario si deve valutare gli impatti delle variabili chiave in dimensione pastel sapendo che le variabili chiave implicheranno l'esistenza di almeno due o più megatrend i quali influiranno ed impatteranno in dimensione pastel mentre all'interno delle dimensioni pastel di oggi proiettate verso il futuro all'interno di queste diciamo queste scansioni pastel esisteranno all'interno di ogni diciamo dimensione politica economica sociale tecnologica ambientale legale altri megatrend autonomi ora le due forze dei megatrend potranno combinarsi o divergere in taluni casi sarà stimabile la risultante in altri casi non sarà possibile valutare la risultante per cui o sommetterà di discuterne della dimensione di cui non si ha modo di poter dare una valutazione oppure si valuterà solo l'impatto del megatrend più forte nella dimensione appunto di cui vi ho già detto di cui sopra via ecco spero di essermi spiegato bene nonostante diciamo questo erzico guadamento di parò quindi in dimensione peste i megatrend interni vanno discussi solo se attinenti alle variabili chiave se non hanno informazioni se non si hanno informazioni in alcune dimensioni peste quindi alcune dimensioni peste risultano invalutabili nello scenario e quindi più corretto omettere questa discussione piuttosto che andare a azzardare ipotesi di cui a priori non si può dire niente come si misura uno scenario emergente è facile lo si misura tramite l'osservazione della realtà evidenziando eventi che sono annessi a tale scenario o megatrend ad esempio se un megatrend prevede la desertificazione ecco monitorare la direttrice di tale megatrend con l'evidenziazione cronologica di crisi idriche cali di resa agricole scomparsa degli acciai sciocchi idrici creazioni di desalinizzatori eccetera sono tutti eventi sentinella che dimostrano l'esistenza e la direzione di un processo di cui a priori già se ne sapeva l'esistenza oppure da cui se ne deduce sia l'esistenza quanto il senso di marcia questa è la ragione per cui la pianificazione strategica sta sul cazzo alla propaganda politica il cui scopo la propaganda politica è quello di nascondere i fatti propaganda politica che travisa i fatti propaganda politica che crea fatti mai esistiti ai fine di coprire con le palle la vera realtà la concreta realtà in dimensione pestle che gradualmente affiora e che disegna lo scomodo scenario emergente questo non è un corso di scenario planning di Oda Lupo di pianificazione strategica ma è una breve infarinatura per valutare sostanzialmente il peso specifico di quanto esposto nella lunga playlist del podcast guerra del cambiamento climatico mediterraneo 2050 per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima grazie a tutti